VIROS! VIROS! Dov'è VIROS? Perché? Cosa vuoi? Sprega! La colpa è tua! Non prendertela con lei. Dà ordine di liberare Ilya. Non posso. Ha messo in dubbio la mia autorità davanti al Consiglio. Falla liberare o te ne farò pentire! Tutto quello che faccio, lo faccio anche per te. Tu e io siamo fratelli, Iemus. Non te lo dimenticare. Colpisci. Colpisci, io non reagirò. Parla al popolo insieme a me. Dammi la tua fiducia e ti darò la vittoria. Ma fratello, se sei contro questa città, allora sarò tuo nemico. Non mi posso fidare di un uomo che non conosco. No? No? Vi ch